Ciao bambini! E oggi questo è davvero davvero un video speciale perché vi farò vedere il cagnolino Polpetta Ascolò qui Non fa la nana lei Facci vedere Sperata Dici Polpetta Dici a tutti che c'è un cagnolino speciale C'è sonnino E' stanchina Vuol fare la nana E' lei tanto buona Che cara che è Ciao! Guarda Volete vedere una cosa ragazzi? Eccola Una torta nel muro A me un bisolto mi fa venire fame Vedete Sette con le freccoline La panna E tante cose Beh Ora Facciamo vedere Polpetta Ecco Dorme Fa la nana Dorme Di solito dorme E di solito anche un dormigione Tanto buona Tanto buona Guarda Colpi Ciao amore Prova a dirgli andiamo Vediamo come si alza Guarda Andiamo Andiamo a fare il giretto Andiamo a fare il giretto Guarda Guarda come si è alzata Hai visto? Sì Guarda come si è alzata Andiamo Uno Due Uno Due Sì Opla Cos'è? Wow Wow Fantastina Tu sa che ti senti tanto caldo vero? Sì Tanto caldo con coltello Giaccomi Eccola Ragazzi voglio farvi vedere una cosa Lei col braccio ha detto io Posso che non mi muore No Non mi fa vedere Si vergogna No devi fare la seduta quando è calma Se no non se la fa a metterlo Lo sai Sì Eh si deve mettere giù buona Ripetta Vuoi dormire qui? Vieni Vai Amore Andiamo a fare il giretto? Andiamo a fare il giretto? No Non dirgli così Se non ci vai poi Vedi? E lo sa? E ti abbaglia Che dici è? Ok Dai Polpettosa Amore Eccola Eccola Buona 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 guarda no deve morire anche a me di mangiare quel pezzo uscino gigante non che voglio sapere vero? vado la fai arrabbiare polpettosa vieni qui a voi ragazzi vi piacciono gli animali? beh a me si io ho preso un cagnolino io ho sempre sognato di avere un cagnolino allora mamma e papà me l'hanno comprato un cagnolino e l'ho chiamato polpetta polpetta grazie